Modello Torino in pelle scamosciata, in tantissimi ci chiedete ma con l'acqua che effetto fa la pelle? Si bagna, non si bagna, si rovina, non si rovina? Adesso ve lo faccio vedere Questo perché? Perché noi facciamo un trattamento ridurorepellente sul pellame Il normale ogni tanto deve essere rifatto ma voi venite al negozio e ve lo facciamo noi Ve lo faccio rivedere Praticamente nuova